Preghiera delle sette Ave Marie alla Vergine addolorata, pregate da Frater Gaetano, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Chiediamo alla Vergine Madre tutte le grazie di cui abbiamo bisogno. Ti compatiamo, Maria, nel tuo primo dolore, quando il vecchio Simeone disse Una spada ti trafiggerà l'anima. Madre dolorosissima, ora pro nobis. Ave o Maria piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetta. Il frutto del tuo seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora e della nostra morte. Amen. Ti compatiamo, Maria, nel tuo secondo dolore, quando dovresti fuggire in Egitto per salvare Gesù. Madre dolorosissima, ora pro nobis. Ave o Maria piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora e della nostra morte. Amen. Ti compatiamo, Maria, nel tuo terzo dolore, quando per tre giorni dovresti cercare ansiosamente Gesù, smarrito a Gesù, smarrito a Gerusalemme. Madre dolorosissima, ora pro nobis. Ave o Maria piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora e della nostra morte. Amen. Ti compatiamo, Maria, nel tuo quarto dolore, quando incontrasti Gesù tutto insanguinato, col pesante legno della croce, ed esausto. Madre dolorosissima, prega ora pro nobis. Ave o Maria piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora e della nostra morte. Amen. Ti compatiamo, Maria, nel tuo quinto dolore, quando vedesti morire Gesù in croce. Madre dolorosissima, ora pro nobis. Ave o Maria piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora e della nostra morte. Amen. Ti compatiamo, Maria, nel tuo sesto dolore, quando tenesti morti in braccia Gesù, deposto dalla croce. Madre dolorosissima, ora pro nobis. Ave o Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora e della nostra morte. Amen. Ti compatiamo, Maria, nel tuo settimo dolore, quando accompagnasti Gesù alla sepoltura ed esolata tornasti a casa tutta sola, senza il tuo Gesù. Madre dolorosissima, ora pro nobis. Ave o Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora e della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.